paloma pronta vai vai pronta pronta no aspetta aspetta non l'ho ancora lanciato paloma paloma devo lanciartelo aspetta paloma vai vai paloma vai vai amore è lì è caduto vai bravissima se questo non è talento no no però devi prenderlo amore amore devi prenderlo brava che sei tornata ma sei tornata senza frisby amore capito è come se fossi un cane da salvataggio vai a salvare quello che annega ma non lo riporti arriva capito bravissima bra ok sì in effetti non so perché lanciano i frisby ai cani perché comunque non avete il pollice opponibile ed è molto difficile per voi sollevare il frisby ok sto apprezzando l'impegno amore brava bravissima